Il finale contro il Civitavecchia, tre punti importanti per i ragazzi di Mister Cabriolo e noi siamo con il match winner, a segno in questa sfida, Di Branco, buongiorno e complimenti Buonasera, grazie mille Allora, un gol importante da tre punti contro una squadra che a dispetto della classifica è stata molto tosta e dura da sconfiggere Sì, è stato un gol molto importante perché comunque sapevamo che il Civitavecchia pur essendo una posizione non molto buona è sempre stata una squadra molto ostica e molto forte da battere quindi sono molto contento per questo gol che ci ha dato la vittoria, tre punti importantissimi Raccontaci un po' com'è andata l'azione del gol Eh beh, praticamente io mi ricordo che non so chi è, ha dato la polla a Sacco Sacco stava sulla fascia, era messa in mezzo, io ho stoppato e ho tirato più potente che potevo e sono riuscito a fare gol Gioia importante per te la quarta stagionale E come sta andando insomma questa tua avventura? No, molto bene anche perché la società, mi trova molto bene la società e col gruppo che è molto unito e sono molti simpatici i compagni quindi sono molto felice di stare qui Chiudiamo con una dedica per questo gol? Sì, dedico questo gol a Zolfo perché è il suo compleanno e in particolare tutta la squadra perché comunque se ho fatto gol è grazie a tutti e non solo grazie a me Complimenti in bocca al lupo Grazie mille 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 Grazie mille